Cari frati Cappuccini e cari giovani che come me siete collegati con la CRIP Santuario di San Giovanni Rotondo, mi presento, sono il Maggiore Antonio Acquariva, il Comandante della Polizia Locale di San Giovanni Rotondo, ma in questo momento mi rivolgo a voi anche a nome di tutte le forze dell'ordine che in questo periodo stanno svolgendo, con un supplemento di impegno e di rischi, un compito ancora più impopolare. Già in passato le nostre divise erano spesso associate nei pensieri di molti alle idee di controllo, di treno alla libertà, di multe da pagare, ma in questo periodo, più che mai, siamo costretti a deludere per il loro bene e per quello dell'intera collettività quanti si aspettano a comprensione, mentre operiamo sul territorio per far rispettare la legge, peraltro con la possibilità di imbatterci in un nemico invisibile e non identificabile, in grado di toglierci non solo la salute ma anche la vita stessa. Per questo vi chiedo di invocare dal Signore una benedizione speciale su tutte le forze dell'ordine e in particolare con quanti sono sulla strada a sfidare ogni tipo di pericolo.